Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, la relazione tra un uomo e il suo cucciolo di Bovaro del Bernese. Ironico e commovente, è capace di farci riflettere su incontri imprevisti che possono trasformarsi in legami profondi e indissolubili, rivelando aspetti importanti di chi siamo e della nostra visione del mondo e dell'amore. La trama del libro e il suo odore dopo la pioggia. Io e Ubac, Dieci anni d'amore, dello scrittore Cedric Sapin de Fur, pubblicato dalla casa editrice Salani, è la seguente. Una pubblicità sul giornale locale cambia la vita di Cedric, i cuccioli di un Bovaro del Bernese cercano casa. L'idea di allontanare la solitudine con un nuovo compagno lo attrae e diventa una certezza quando incontra il cucciolo dal colletto azzurro. Solo la ricerca del nome è un'avventura. L'attesa è insopportabile, come quando due innamorati sono costretti a separarsi. Il suo arrivo è preparato con grande cura. Ubac, man mano che cresce, occupa, in ogni senso della parola, un posto sempre più essenziale nella vita del narratore. Un legame unico, naturale, assoluto in grado di far riverberare la gioia, il dolore. Gli istanti irripetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine, ci sembra di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dalla pioggia. In quelle successive dimentichiamo persino che il protagonista sia lui e finiamo per assistere increduli e col cuore in gola allo stupefacente racconto della nostra stessa vita. È un libro ironico e commovente sugli incontri inattesi che ci regala il destino e che diventano legami indissolubili in grado di rivelarci chi siamo e quale sia la nostra idea del mondo e dell'amore. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.